Ceri Season 2, Ayad Zilbaccio Isik, puntata martedì 4 luglio 2017, anticipazioni, nella puntata di martedì 4 luglio 2017, Ayad troverà il coraggio di lasciare Oiku, senza una spiegazione plausibile, ma la ragazza non gli crede, e sente che lui la ama ancora, ma non riesce a capire il perché di una simile decisione, ma a causa di questi problemi amorosi, la Akar arriva in ritardo all'appuntamento con gli americani venuti da oltreoceano apposta per lei, inoltre dimentica i disegni a casa di Ayad Zilbaccio, dopo aver lasciato la Akar, Ayad Zilbaccio tenta in ogni modo di convincere Oiku, che non è più innamorato di lei ed aver perso la testa per la sua ex compagna di scuola Isik, baciandola appassionantamente davanti a lei, la Akar si arrabbierà molto e soffrirà, ma si dimostrerà indifferente al gesto dell'ormai ex fidanzato, sarà davvero finita tra i due innamorati, prima parte il dramma di Ayad Zilbaccio, nella scorsa puntata di Cherry Season 2 avete visto Ayad prendere la decisione di lasciare la sua Oiku, infatti il Dincere, nonostante sia perdutamente innamorato di lei è costretto a dirle addio a causa del ricatto di Mete, il quale con un vile ricatto, minaccia il giovane architetto di far finire la madre in carcere per l'incendio dell'atelier di Mehmet, Ayad si è dunque trovato a dover scegliere tra le due donne più importanti della sua vita, ma lasciare Oiku per lui è come morire, la Akar però non si arrende teme che dietro alla decisione del fidanzato ci sia qualcosa che lui sta nascondendo e che non ha rivelato a nessuno, ma è decisa più che mai a scoprire di cosa si tratta, seconda parte, Ayad e la sua nuova fiamma, le trame di Cherry Season 2 rivelano che la Akar inizia a investigare sul perché Ayad l'ha scaricata, ma il Dincere teme che Oiku possa scoprire la verità, così decide di chiamare una sua amica ed ex compagna di scuola, Isaac, il figlio di Onel poi si presenterà tra gli amici con questa ragazza, sbalordendo davvero tutti soprattutto a Oiku, ma perché Oiku si convinca che non la ama più, decide di dare un bacio appassionato a Isaac davanti a la Akar che per poco non sviene, questa messa in scena fa davvero soffrire non solo la figlia di Meral, ma anche Ayad che a stento riesce a trattenere le lacrime per quello che le sta facendo, cosa accadrà adesso, ultima parte, Mete è la conquista di Oiku, ma c'è chi al contrario è davvero soddisfatto di come stanno andando le cose, si tratta di Mete che non nasconde ad Ayad di essere contento nel vederlo star male per amore, ma questa situazione al Dincere crea uno stato di ansia incredibile sapere che Mete sta ronzando intorno alla sua amata lo innervosisce, tutto accade durante un campeggio che era stato organizzato da tempo e il gesto fatto dal Dincere avrà una tremenda conseguenza su Oiku che a sua volta farà qualcosa che mai e poi mai Ayad si sarebbe aspettato, di cosa si tratterà, cosa farà la Akar, lo scopriremo con le prossime anticipazioni di Cherry Season 2.